Dal Vangelo secondo Giovanni Io non lo conoscevo ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele Giovanni testimoniò dicendo Ho contemplato lo spirito di scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui Io non lo conoscevo ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è lui che battezza nello spirito santo E io ho visto e ho testimoniato che questo è il figlio di Dio C'è un gosem Grazie a tutti.